Intervista parallela ai preti novelli della Diocesi di Trento, Davis e Gianluca. Voi avete dovuto rinviare più volte l'appuntamento con la vostra ordinazione sacerdotale. Come avete vissuto questo ripetuto rinvio, questa fase di incertezza, Davis? Io personalmente l'ho vissuta con la dimensione dell'affidamento a Dio e ho pensato che ci siamo un'altra volta dal momento che già con il diaconato ho avuto un rinvio a causa della scomparsa di mio padre. Ho pensato, accidenti, un'altra volta, però per me è stato utile per centrarmi ancora sul senso più profondo della chiamata. Mi è stato utile per ricentrarmi veramente, per ricentrarmi sul Signore e su quello che mi chiedeva di diventare, di essere per gli altri. E lei Gianluca? Sì, anche per me è stata un'occasione comunque per cogliere anche la precarietà che caratterizza la nostra vita, il fatto che possiamo programmare fino all'ultimo ma poi ci può essere sempre un qualcosa che ci spiazza. Ma va colto anche questo come un'opportunità per rimettersi in gioco, per forse anche delle domande, per cercare anche come comunità delle risposte a quelle che possono essere delle difficoltà che appunto ci devono rendere però più forti, più solidali e porci anche in ascolto di quella parola che penso che possa appunto darci delle indicazioni. Gianluca, in questo periodo di emergenza sanitaria, prima la quarantena, poi questo molto lento ritorno ad una cosiddetta normalità, che cosa vi ha dato? Proviamo a cogliere il positivo. Ma sicuramente i tempi un pochino più dilatati hanno dato la possibilità di fermarsi un pochino meglio sulla parola anche se mancava chiaramente la dimensione comunitaria che poi abbiamo potuto così riscoprire e apprezzare maggiormente quando si è potuto ritornare appunto a celebrare, a pregare insieme con gli altri. Per cui è stata un'occasione anche appunto per riscoprire alcune pagine del Vangelo ad esempio che così nella quotidianità comunque erano presenti ma in maniera più magari superficiale si riusciva ad avere meno tempo per entrarmi, per soffermarsi e anche quello che succedeva tutto intorno appunto ci sollecitava a cercare in Dio, nella sua parola, delle risposte o perlomeno un conforto, un sostegno, un aiuto. Per lei Davis? Per me davanti a questo punto di domanda prima di tutto c'era il come raggiungere le persone, come dare la testimonianza, come portare il Vangelo alle persone che sono costrette in casa. E quindi noi, beh io ero rimasto qui in parrocchia e quindi noi trasmettevamo la Santa Mesa e le funzioni e ecco le trasmettevamo via radio. Oltretutto è stato bello qui a Daldeno perché il gruppo dei lettori e dei cantori ecco mi inviavano a me via WhatsApp e mi inviavano le letture e poi io montavo sul computer e quindi quando era la messa del sabato sera e della domenica ecco potevamo trasmetterle, mi collegavo col computer in chiesa insomma e potevamo fare in modo che ecco la comunità continuasse a camminare e anche pur nella distanza ci sentivamo comunque tutti uniti. È stata un'opportunità, abbiamo trasformato un punto di domanda, abbiamo trasformato una cosa incerta ecco in una possibilità ecco se vogliamo di rimanere uniti in maniera diversa insomma. È stato un momento bello anche di comunità soprattutto. Gianluca una domanda più specifica su quest'ultima estate, qualche esperienza particolarmente significativa? Certo, è partita un po' con l'incertezza se si potesse appunto ricominciare ad incontrarsi, a fare attività in parrocchia e poi dopo è stato appunto il coraggio ha preso piede insomma e si è potuto confrontandosi nell'oratorio, nella realtà parrocchiale avviare alcune proposte per i bambini dapprima, poi per i ragazzi e per i giovani e in queste attività, in questi momenti, in queste giornate si è posta al centro l'attenzione alla relazione, la relazione proprio più semplice, più quotidiana e questo è stato veramente una ricchezza anche nei piccoli gruppi che si sono costituiti e si poteva appunto vedere l'adulto con il bambino, con il ragazzo che si confrontavano su questioni appunto della vita, questioni che riguardavano appunto il vissuto ed è stato veramente molto molto arricchente e poi un po' alla volta anche poter riprendere le relazioni con le persone della comunità, anche con gli ammalati, con le persone, con alcuni di loro perlomeno in forma diretta, è stato veramente una grande occasione per riscoprire la centralità della relazione che penso sia proprio anche il pulcro della nostra fede, del nostro vivere insieme, del nostro essere comunità non in isole ma appunto insieme anche al Signore che ci dà opportunità anche per stare insieme in un certo modo, in maniera costruttiva, in maniera bella insomma. Davis, un'immagine di quest'estate? Dunque, io quando mi chiedi un'immagine di quest'estate mi viene in mente il volto di mia madre perché sono andato su a casa, perché non ci vedevamo veramente da tanto ed è stata per me un'occasione per stare vicino a mia madre che si sta piano piano ristabilizzando ed è stato veramente bello, ed è stato bello questo anche in prospettiva poi dell'ordinazione e quindi di stabilizzarmi definitivamente qui in parrocchia. è stato un momento bello anche per guardarsi negli occhi, per un semplice ti voglio bene che è tanto semplice però insomma non è mai banale. Grazie, grazie di questa confidenza molto umana e significativa. Voi prendete il posto, si può dire, anche di molti preti che purtroppo se ne sono andati proprio a causa di questa pandemia. Immagino che sia un pensiero che vi fa tremare i polsi. Ci comincia, Davies. Sì, io penso che ecco il rischio c'è, è reale, è concreto, non va banalizzato. Tanti medici, tanti infermieri, tanti operatori hanno rischiato e continuano a rischiare la loro vita. Noi stiamo rischiando in una maniera più soft se vogliamo. Ecco, una cosa importante è questa, secondo me, seguire bene le direttive sanitarie e fare in modo che le persone che trovano il coraggio di venire a messa trovano un ambiente sano, pulito, trovano un modo anche di gestire le norme in una maniera corretta, di modo che ci sia la massima sicurezza per le persone. Questo per me è il mio punto principale, insomma. Davies, è il pensiero che voi sostituite i sacerdoti che non ci sono più, che sono morti? Sì, beh, me è indegno. La sostituzione, insomma, ecco, io penso che chi se n'è andato è sempre un vuoto insostituibile. Noi possiamo, ecco, per me penso, possiamo fare la nostra parte, dare il nostro tassello di umanità, portiamo la nostra umanità, portiamo la testimonianza del Signore e cerchiamo di proseguire. Ecco, quest'opera meravigliosa che è la testimonianza, che è la fede. Gianluca concorda, vedo. Sì, abbiamo ricevuto tante testimonianze da sacerdoti, da religiosi, che si sono spesi anche negli ospedali, nelle case di cura in questo periodo e hanno anche perso la loro vita, per cui ogni volta, venendo a conoscenza appunto della loro ripartita, della loro ripartita al padre, era sempre un fermarsi, un riflettere su una vita spesa appunto per gli altri, insieme ai fratelli e condividendo anche questo tratto di strada, questo tratto della storia che ci pone appunto tanti interrogativi. mi piace appunto ricordare anche questi sacerdoti che sono morti, diciamo, durante questo periodo, ma anche quelli delle nostre comunità che ci hanno guidato sempre e magari alcuni sono appunto saliti al padre e ci hanno lasciato in eredità una testimonianza di fede, vissuta e di vicinanza anche alle nostre comunità, delle quali anche noi, insomma. Davies e Gianluca, voi non venite ordinati nel tempo delle messi biondeggianti di giugno, ma nel tempo dei grappoli maturi, della vendemmia, della raccolta. Di che cosa vi sentite in qualche modo frutti maturi, sì possiamo dirlo, maturi, Davies? Sì, ecco, diciamo che rispondo con un col sorriso dicendo che ecco siamo appunto frutti maturi. Ecco, si potrebbe dire così. Io mi sento frutto anzitutto della misericordia di Dio e quindi dispensatore di questa misericordia. non mi piace pensarmi come un rubinetto della misericordia di Dio che apro e chiudo a seconda dei miei limiti umani, delle simpatie, delle antipatie, ma ecco, essere un sacerdote accogliente per tutti, ma nella profondità proprio del sentimento umano. Ecco, mi sento chiesto. Luca? Sì, sfrutto di questa chiesa, di questa storia, inserita in questa storia, in questo momento, delle comunità dalle quali appunto proveniamo, dalle quali siamo stati custoditi e accompagnati in tutto il periodo anche del seminario, per cui anche dalla comunità del seminario, dalla nostra chiesa che appunto sentiamo come madre, come sempre presente, attenta in ogni momento e appunto questo penso sia una grande ricchezza, poter testimoniare la fede che abbiamo ricevuto da altri, insomma, dare anche una continuità a quella gioia del vivere con il Signore che abbiamo vissuto, potuto sperimentare nelle nostre comunità. Un'ultima domanda relativa alla celebrazione propria di sabato. Per la prima volta, stando appunto alle misure anti-Covid, voi non potrete abbracciare i confratelli e non sentirete fisicamente le loro mani imposte sul vostro capo, faranno l'imposizione ma a distanza. Come accogliete questa privazione di un contatto fisico, Davis? Ma come è un gesto di amore anche questo, cioè essere sicuri di non voler far del male, ma solo dare una benedizione, la benedizione passa naturalmente, non c'è bisogno del contatto, ma questo dice qualcosa, dice una Chiesa attenta, parla di sacerdoti che sono attenti all'altro, anche in una situazione così, non si abbandonano, secondo me, ecco, quello che ho visto io non ci si lascia andare, ma si è sempre fatto così, allora bisogna fare, no, no, viene prima la sicurezza, avviene prima l'amore e il rispetto e allora queste sono le conseguenze, insomma, ecco, è un amore messo in pratica. San Luca? Sì, anche secondo me si tratta di una forma di carità, di amore, che trova nuove strade, nuove modalità di espressione in questo tempo particolare, ma che comunque è un tempo anche, vedo, che ci dà la possibilità di, con creatività, mettendoci in gioco, insomma, di trovare nuove modalità per trovare relazione, per trovare vie d'amore, vie di condivisione, che alle volte, appunto, possono sembrare anche strane e particolari, ma sono tutte indirizzate, diciamo, a ricreare quelle condizioni di relazione che sono essenziali, insomma, che sono al centro anche dei sacramenti, penso, perché c'è una relazione con Dio e con i fratelli. Per cui... Questa intervista di una vigilia così storica per voi, ma anche per la nostra Chiesa, per i vostri profili, poi, si potrà leggere anche su Vita Trentina qualcosa in più, col vostro permesso, forse finirà anche sui social, di cui voi siete anche utilizzatori, ecco, di questo vi ringrazio. chi vi incrociasse magari casualmente, ecco, che cosa vorreste pensasse di un Don Davis e di un Don Gianluca a Pretti Novelli? Gianluca? Sicuramente abbracciare anche la Chiesa in questo servizio è gioia, è bello, è mettersi appunto a disposizione anche degli altri, allo stesso modo come chi costituisce una famiglia o presta servizio nelle nostre comunità in più variegati modi e per cui sono contento insomma di abbracciare questa vita, di poter iniziare questo nuovo servizio, questa nuova avventura insieme al Signore, insieme ai fratelli insomma nella nostra Chiesa Trentina. A me invece mi sarebbe essere un punto di domanda per chi non crede è un punto di domanda per chi ecco è freddo è distaccato è lontano dalla fede mi piacerebbe mi piacerebbe essere un punto esclamativo quindi una conferma per chi nutre la speranza in Dio per chi dice ecco il Signore non ci ha abbandonato continua a chiamare lo fa in modi diversi ma questo ecco lo lasciamo alla grazia di Dio ecco e a chi accetta questo percorso allora appuntamento per chi si è prenotato sabato 12 per tutti c'è la possibilità di seguire in streaming e anche in diretta televisiva su Telepace Trento a voi come dicono gli scout di cui siete stimatori buona strada grazie 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 a tutti